Situazione di stallo all'interno della maggioranza dopo la riunione di ieri, l'Udc resta ferma sulle sue posizioni e chiede un assessore. Sindaco e alleati per ora dicono no. Ottimi numeri nonostante la continua emergenza covid per il sistema museale algherese e per la grotta di Nettuno. Nel tigile parole del presidente della fondazione Alghero Andrea De Logu. Un grave atto vandalico ha visto presa di mira ancora una volta la nicchia della madonnina di Portosalve, un simbolo per la marineria algherese e per la città. Dura condanna del sindaco. Un saluto a tutti voi ben ritrovati telespettatori di CatalanTV. Questi erano i titoli del nostro sommario di oggi. Apertura dedicata alla politica perché ieri sera era in programma un'importante riunione di maggioranza. Non è cambiato granché perché l'Udc continua a chiedere un ruolo in giunta ma sindaco e alleati non sembrano d'accordo. Si è svolta tutto sommato in un clima disteso la riunione di ieri tra i partiti di maggioranza, due rappresentanti per ogni forza politica anche se per la Lega rappresenta anche il coordinatore provinciale. Nessuna novità rilevante però anche perché l'Udc ha ribadito la richiesta di un ruolo in giunta già precedentemente respinta dal sindaco. I centristi hanno fatto notare che negli ultimi mesi gli equilibri sono cambiati. Un esempio su tutti la civica noi con Alghero che ha perso un consigliere, Maurizio Pirisi, passato alla Lega e ha mantenuto due assessori, Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras. Ma c'è chi nel corso della riunione ha fatto notare che da qui ai prossimi mesi o anni potrebbero esserci ulteriori cambiamenti e quindi se davvero si dovesse seguire questa logica in ogni occasione si dovrebbero rivedere gli assetti. Uno scenario improponibile secondo molti che porterebbe alla paralisi di consiglio e commissioni. Insomma la situazione non è cambiata anche se da parte di tutti ieri è stata ribadita la volontà di andare avanti uniti seguendo il programma che ha permesso di vincere le elezioni nel 2019 ed evitando strappi. È chiaro però che in questo momento così delicato, toccando anche un solo tassello, si rischierebbe di far colorare tutto. È quello che Conoci vorrebbe evitare ed è per questo che nei prossimi giorni verrà convocata un'ulteriore riunione per capire se sia possibile ridurre le distanze, trovare magari un compromesso e andare avanti così fino al 2024. A meno che i centristi non decidano di passare all'opposizione, ipotesi nemmeno troppo remota. In quel caso il sindaco si troverebbe a governare in 13 e con il consiglio in seconda convocazione che sarebbe l'ordine del giorno. Diamo uno sguardo ora alla situazione Covid con la Sardegna che rischia di passare in zona gialla anche se ormai con gli ultimi decreti ci sono ben poche differenze con la bianca visto che ad esempio c'è l'obbligo di mascherina all'aperto e non ci sono limitazioni agli spostamenti. Finora a tenere l'isola in zona bianca è stata la percentuale di posti letto occupati da pazienti con Covid nei reparti in area medica. Sino a ieri al di sotto della soglia critica del 15% che potrebbe però essere superata visto che i ricoveri sono in aumento. Soglia del 10% per le intensive che invece la Sardegna aveva superato già da diversi giorni così come 50 casi per 100.000 abitanti. Se ne saprà di più comunque venerdì quando è prevista la riunione della cabina di regia. Intanto nell'ultimo bollettino diffuso dall'unità di crisi regionale si sono registrati 6 decessi, 1.700 nuovi casi sulla base di 2.579 persone testate e 7.765 tamponi processati. Il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva è rimasto invariato a 28 mentre i ricoverati in area medica sono saliti da 236 a 238, dunque due in più. Sono invece 21.197 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Altri numeri sono quelli del sistema museale algherese della grotta di Nettuno che in questa estate è stato il sito naturalistico più visitato in Sardegna. Per quanto riguarda i musei addirittura i dati migliori di quelli pre-covid come confermato ai nostri microfoni dal presidente della Fondazione Alghero, Andrea De Logu. Anche l'estate 2021 è stata caratterizzata dalla pandemia tra distanziamento, ingressi contingentati e protocolli da seguire, ma nonostante questo i numeri in mano alla Fondazione Alghero sono in certi casi addirittura migliori di quelli pre-covid. Basti pensare al museo archeologico, al museo del Corallo, che hanno registrato un incremento delle presenze a fronte di un'apertura estremamente ridotta. Senza dimenticare i 128.000 visitatori nella grotta di Nettuno a Capocaccia, che si conferma il sito naturalistico più frequentato in Sardegna. Numeri ai quali ha dato un forte impulso l'Alghero Ticket e il nuovo sistema di vendita e bigliettazione online sviluppato grazie alla partnership col Consorzio Turistico Rivera del Corallo. Sì, diciamo che considerando il fatto che siamo partiti, i musei sono stati aperti praticamente al mese di giugno, lo stesso la grotta di Nettuno, perché a causa dei vari provvedimenti governativi erano chiusi i luoghi della cultura, diciamo che è stata un'ottima annata. Naturalmente la grotta per una questione di contingentamento non ha potuto fare i numeri normali, antepandemia, però diciamo che ha avuto nei mesi che normalmente sono di bassa stagione, settembre-ottobre, anche grazie al bel tempo, sono stati i due mesi migliori anche antepandemia. Naturalmente luglio-agosto era un problema di accessibilità più che altro. I due musei cittadini, il Museo archeologico e il Museo del Corallo, Muse e Macor, come li abbiamo rinominati, hanno avuto dei numeri ottimi, nel senso che hanno addirittura praticamente raddoppiato i numeri antepandemia. Quindi diciamo che è stato un successo, vuol dire che il sistema museale sta funzionando e soprattutto che la card, l'alghero ticket, sta funzionando, nel senso che mettere a sistema 12 siti, come è successo quest'anno, a un prezzo altamente competitivo, con la grande attrazione della grotta, permette anche ai musei e ai siti magari meno visitati di accrescere notevolmente le presenze. Considerate che abbiamo fatto 7.500 presenze nei due musei partendo da giugno, quindi in soli sette mesi se ne facevano mediamente 4.000 antepandemia. E' in chiusura di prima parte spazio al bilancio annuale della Polizia Stradale Sarda con tutte le attività e i numeri registrati durante i servizi. Anche per l'anno 2021 è tempo di fare un bilancio dell'attività operativa della Polizia Stradale nell'isola, che come il resto del territorio nazionale è inevitabilmente risentito dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Volendo fare un bilancio dell'attività della Polizia Stradale, si può dire che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 sono stati effettuati 35.000 controlli di persone e contestate 27.322 infrazioni al codice della strada. In particolare le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state quasi 5.000, le patente di guida ritirate sono state oltre 2.000 e le carte di circolazione 1.250. Mentre i punti patente decurtati sono quasi 60.000, i conducenti controllati con etilometri e percursori sono stati 14.338, di cui 761, sanzionati per guida in stato di ebrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 17. L'attività infortunistica ha registrato una diminuzione del fenomeno rispetto all'anno precedente dove si erano registrati 20 incidenti mortali con 21 vittime e 410 incidenti con lesioni con quasi 700 persone ferite. In particolare nel corso dell'anno passato sono stati rilevati 15 incidenti mortali con 16 vittime e 367 incidenti con lesioni e circa 500 persone ferite. Per quanto riguarda il settore del trasporto professionale sono stati impiegati 168 poliziotti che hanno controllato 1.044 veicoli pesanti, di cui 20 di nazionalità straniera, accertando 325 infrazioni e ritirando due patenti di guida e 5 carte di circolazione. L'attività investigativa è stata rivolta principalmente al contrasto dei fenomeni criminali legati al traffico illecito dei veicoli e ha determinato 6 riferimenti all'autorità giudiziaria. Infatti a seguito di queste attività sono stati sottoposti a sequestro 7 veicoli oggetto di riciclaggio. I controlli agli esercizi pubblici poi sono stati 61 e hanno comportato la rilevazione di 12 infrazioni. Per concludere, sul fronte della prevenzione, nonostante la pandemia, gli uomini e le donne della polstrada non si sono risparmiati per raggiungere l'obiettivo ambizioso di azzerare il numero delle vittime della strada. Tutti gli utenti, dal pedone al conducente di monopattino fino all'autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la propria vita e quella degli altri. Icaro, bici, scuola, l'unione fa la sicurezza, guida e basta, inverno in sicurezza e vacanze sicure, sono solo alcune campagne di educazione stradale con cui la polizia stradale tenta di diffondere il messaggio di una guida consapevole, soprattutto tra i giovani, che saranno gli automobilisti del futuro. Un ultimo pensiero, chiude la nota della polizia stradale, va al collega Marino Terezza, che nel mese di luglio, durante l'espletamento di un servizio di pattugliamento lungo un'arteria sarda, ha perso la vita prematuramente. Ci lasciamo ora, c'è la pausa, per la pubblicità torniamo subito dopo. E apriamo la seconda parte del nostro telegiornale riferendovi di un atto davvero increscioso. Nella serata di ieri alcuni passanti si sono accorti del grave danno causato alla nicchia della Madonnina di Portosalve. Come potete vedere dalle immagini qualcuno che non si rende davvero conto delle sue azioni vandali che ha mandato in frantumi la porticina di vetro che da sempre protegge da intemperi e da umidità il piccolo simulacro della Vergine, tanto cara agli algheresi che è stata per tanti anni sull'isola della Madalenetta. A segnalare il fatto, Nadia De Santis che si trovava a passare da quelle parti e poi insieme a Don Giampiero hanno provveduto a mettere in salvo la preziosa statuetta. Il vetro presumibilmente è stato rotto con uno dei due vasi che stanno ai lati della nicchia, uno dei quali era infatti divelto. Facebook riporta le parole del sindaco Mario Conoci che interviene su quanto è accaduto. Qualche sciagurato vandalo stasera ha scritto il primo cittadino di Alghero ha voluto esprimere tutta la propria miseria con un atto vandalico contro la nostra Madonnina di Portosalve, un atto sconsiderato e banalmente cattivo contro un simbolo sacro della fede cristiana al quale in particolare la nostra marineria si rivolge da sempre per chiedere protezione e per affrontare il duro e pericoloso lavoro in mare. Grazie ha scritto poi a conclusione il sindaco a chi ha messo al sicuro la Madonnina che presto ritornerà al suo posto. Nuova settimana di conferenza in presenza all'Ute di Alghero. Si comincia questo pomeriggio alle 16 e 30 presso la sede di via Sassari 179. Sarà il dottor Luigi Pirovano psicologo psicoterapeuta per il seminario di psicologia a tenere la conferenza dal titolo Il Super Io, mentre giovedì 20 gennaio alle 16 e 30 sempre presso la sede di via Sassari sarà la volta della dottoressa Alessandra Di Riu, archivista dell'archivio diocesano di Alghero Bosa, ma anche scrittrice e storica che terrà per la Pratea la conferenza Alghero e la Sardegna nel 1500 dal testo legislativo del vescovo Baccagliar, Osterie e Sacramento del Brattesimo. Ed è stato pubblicato in occasione della ricorrenza di Sant'Antoni Abate il libretto illustrato Sant'Antoni del Foc, radascuberta di una tradizione editrice edes dedicato alla festa del Santo ad Alghero e nei paesi di lingua catalana interamente scritto in algherese. Il progetto promosso dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari con il padrocinio del Comune di Alghero ha una duplice finalità didattica pensata specialmente per i ragazzi delle scuole cittadine, riscoprire una figura importante della narrativa e della cultura folclorica europea che nel Medioevo fu al centro di favolose leggende sulla sua lotta contro i demoni e promuovere le potenzialità dell'algherese come lingua narrativa. Alle tradizioni letterarie e folcloriche sul Santo Abate egiziano l'Università di Sassari dedicherà anche un convegno di approfondimento scientifico nel prossimo mese di giugno. Intanto il libretto corredato da vivaci illustrazioni ad Acquerello racconta le peculiarità dell'antica festa di Sant'Antonio come detto ad Alghero e nei paesi catalani dove la data del 17 gennaio segna l'inizio del carnevale. La leggenda folclorica che celebra il Santo come scopritore del fuoco e infine le notizie storiche sulla chiesa medievale di Sant'Antonio e l'annesso ospedale che sono situati al carré Sant'Antonio oggi via Cavour quindi non più esistenti. Come si legge poi nel prologo il progetto nasce come scrittura a più mani tra esperti della lingua e della cultura algherese Francesco Ballone, Carla Valentino e Giovanna Tillocca e il ricercatore Giovanni Strinna. Da ieri il 17 gennaio festa del Santo il libretto è disponibile presso le librerie Sirano e il labirinto di Alghero e può essere liberamente scaricato in formato pdf dalla piattaforma all'indirizzo www.lienguamia.cat Con il completamento dell'intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione del pala manchia avvenuto nei giorni scorsi che ha già ricevuto il relativo certificato di regolare esecuzione si è conclusa un'importante fase dei lavori di ristrutturazione così come previsto nell'atto di concessione in gestione alla SD pallacanestro Alghero 1986 del palazzetto. Il primo intervento attuato ha riguardato i lavori per la messa a norma antincendio del palasport, l'altro la sostituzione dei fari di illuminazione del campo da gioco. Tale ammodernamento avrebbe consentito di passare dai dispendiosi fari agli ioduri metallici da 400 watt a quelli ad alto risparmio energetico a LED. La SD pallacanestro Alghero, concessionaria dell'impianto, ha ritenuto opportuno potenziare quanto inizialmente previsto sostituendo ulteriori 20 fari per un totale quindi di 38 con un impegno economico molto importante interamente a proprio carico. Si tratta di un intervento che non è stato solo estetico ma che risponde ad una precisa filosofia di gestione e cioè quella di rendere gli spazi frequentati dai nostri ragazzi sempre più sicuri, sani e moderni. La scelta tecnica dei fari a LED è stata invece dettata da una duplice esigenza, afferma Antonello Muroni. Da un lato queste lampade di nuova tecnologia rispettano le prescrizioni coni previste per l'impianto di illuminazione e di emergenza negli ambienti ad uso sportivo. Dall'altro raggiungono lo scopo di ottenere una migliore efficienza energetica nell'illuminazione dello spazio di gioco. Infine a giorni sarà pronto anche l'impianto di videosorveglianza e a breve, grazie all'intervento della manutenzione straordinaria dell'amministrazione comunale, verranno sostituiti tutti i lucernari gravemente danneggiati dall'eccezionale tempesta di vento e grandine che colpì Alghero nel settembre del 2019, conclude Antonello Muroni. E la notizia riguardante quindi il Palamanchia chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Come sempre ora il meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.